La famiglia si fidava di quel parente, lo zio 36enne a cui veniva affidata la figlia più piccola di 12 anni per evitare che stesse da sola mentre i genitori erano occupati al lavoro e invece per ben tre anni ha abusato della nipote che ha confidato le violenze subite alla psicologa della scuola. Questa ragazza ha aperto questo vaso sepolto di sofferenza raccontandomi la sua esperienza e insieme abbiamo deciso naturalmente di concerto con la direzione di chiamare e farci aiutare naturalmente da chi è preposto quindi la polizia. Poi in fase di indagini si è appurato anche che la sorella di questa ragazzina sempre infra 14enne aveva 13 anni aveva subito un altro tentativo questa volta di violenza per cui lui ha risposto di entrambe le situazioni ed è stato condannato a 5 anni. Zio Orco ora in carcere grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Treviso con i colleghi della polizia giudiziaria del tribunale, storia cruda e raccapricciante che ha messo in evidenza la grande voglia di riemergere di una bambina costretta a suo malgrado a subire il ruolo di donna. Lei lo ha fatto per se stessa, per le difficoltà che sentiva che questo tipo di esperienza stava ormai generando dentro se stessa quindi delle difficoltà affettive, delle difficoltà a vedersi nel suo immaginario di donna, di ragazza ma soprattutto perché potesse aiutare anche altre ragazze che magari avevano vissuto questo tipo di esperienze traumatiche.